Lei lo conosce, ci ha lavorato, avete sempre rapporti, vi sentite? Mi faccio gli affari suoi? No, no, non lo sento da anni. Da tempo. L'ho liberato dalla mia presenza, che era piuttosto ingombrante. Sgarbi ha parlato di una ritirata onorevole. Ha detto che sarebbe bene che Berlusconi, a questo punto non ci sono i numeri, sarebbe bene che facesse una ritirata onorevole. È un consiglio che lei si sentirebbe di dare a Berlusconi? Guardi, io ragiono di politica guardando alla storia, quindi guardando un po' più indietro nel tempo. Ricordo sempre che quando io ero bambino, si può dire, ogni volta che si apriva la corsa al colle, il candidato di punta era Fanfani, che era una personalità straordinaria, gigante, gigante del riformismo, un uomo che ha cambiato molto in profondità questo paese e ha fatto molto bene nella sua azione di governo fin dal primo dopoguerra. Ogni volta veniva regolarmente impallinato dai franchi tiratori, non perché non ne avessero una opinione cospicua, ma perché era ritenuto troppo ingombrante per il ruolo di capo dello Stato. Fanfani ha sempre accettato, non proprio felicemente, ma ha accettato questo destino che gli veniva riservato. C'è un altro precedente che io ricordo spesso ed è quello di Moro. Nel 71 Moro contese a Leone la candidatura democristiana per il Quirinale. Si riunirono i parlamentari e Leone vinse per una manciata di voti, poi furono bruciate le schede, credo siano state 10-12. E Moro si trovò ad avere dalla sua metà della DC e tutte le sinistre che spingevano perché si candidasse. Se Moro avesse detto di sì, andava al Quirinale in carrozza, aveva sulla carta i voti di una larga maggioranza parlamentare. Ma siccome si premurava di non dividere il suo partito e di non dividere il paese per quanto fosse possibile, rinunciò. È l'unico caso nella storia della Repubblica di un signore che i voti li aveva e non li ha usati. E io penso che il modello delle istituzioni siano queste figure qui. Cioè persone che sanno che... Cioè persino indipendentemente dal fatto di averli o non averli i numeri? Beh, mi sembra un atto di grande lungimiranza politica perché poi Moro, sto parlando del 71, per altri sette anni fino al rapimento delle Brigate Rosse, è stato un uomo decisivo nella politica italiana. Ma non ha giocato tutte le sue carte sull'ambizione di fare il capo dello Stato. Che succede adesso? A proposito di consigli.